Previsioni per oggi. Al mattino, al nord, cielo nuvoloso con solo qualche raggio di sole. Al centro, tempo uggioso con deboli piogge. Al sud, nubi irregolari con locali acquazzoni. Nel pomeriggio, al nord, tempo uggioso con deboli piogge. Al centro, cieli grigi con scroci di piogge intermittenti. Al sud, tempo uggioso con deboli piogge. Previsioni per domani. Al mattino, al nord, tempo uggioso con deboli piogge. Al centro, soleggiato con poche nubi. Al sud, schiarite alternate e nubi sparse. Nel pomeriggio, al nord, schiarite alternate e nubi sparse. Al centro, soleggiato con nubi sparse. Al sud, soleggiato con nubi sparse.